Dobbiamo comprendere quanto la situazione sia grave, è possibile insistere a sufficienza sulla gravità della situazione. Un paese indipendente che non ha fatto nulla per meritarlo è stato invaso da una potenza militare pesante di un altro paese che detiene l'arma nucleare, che minaccia di utilizzare tale arma contro chiunque si permetta di intervenire in questa situazione. Come sapete, per dare supporto immediato all'Ucraina abbiamo adottato un pacchetto di sanzioni che è stato oggetto d'accordo ieri sera da parte dei leader degli stati membri. Il Consiglio ha fornito guida politica affinché i ministri degli affari esteri e il Consiglio degli affari esteri potesse procedere a un'approvazione formale di questo pacchetto. Abbiamo messo anche il Presidente Putin e il ministro degli esteri Lavrov nella lista delle sanzioni. Questo è il risultato finale delle discussioni che non si erano concluse ieri al vertice. Quindi oggi è stato deciso dai ambasciatori e dai ministri dopo un'intensa discussione che si è tenuta oggi, durante la mattinata. Quindi Putin e Lavrov sono nella lista delle sanzioni insieme ad altri membri della Duma che sostengono questa aggressione.